Due anni dopo l'alluvione la regione aggiorna la fase di ricostruzione 27 milioni per ammodernare la rete idrica pesarese partono i primi cantieri A Fano 7 sospetti casi di febbre tropicale d'enghe, il comune prepara le disinfestazioni Cittadella della salute mentale a Pesaro trasferimento da Muraglia a Santa Colomba Donazioni di sangue, Pesaro ospiterà la tre giorni dell'Avis Donor Weekend Buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione serale di Rossini News Telegiornale di giovedì 12 di settembre che apriamo con gli ultimi aggiornamenti riguardanti la fase di ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione di settembre 2022 Alla vigilia del secondo anniversario di quei tragici accadimenti la Regione Marche fa il punto su quanto realizzato e quanto ancora da mettere a terra Dalla programmazione alla fase esecutiva Il piano delle opere strutturali commissariali diventa pienamente operativo E questo quanto emerso durante la conferenza stampa organizzata in Regione in occasione del secondo anniversario dell'alluvione che colpì le Marche il 15 settembre 2022 e nella quale il presidente Francesco Acquaroli ha aggiornato la situazione di una fase di ricostruzione che per i fiumi Misa, Nevole e Comprensorio del Catria sta mettendo a terra risorse importanti Un processo ulteriormente agevolato dalla proroga di un anno dello stato di emergenza fondamentale per programmare opere di prevenzione a rischio idrogeologico Siamo praticamente a due anni, tante sono le risorse che sono state messe in campo dalle somme urgenze, al CAS, ai ristori ma oggi si sta impegnando tutta la struttura insieme ai comuni, a tutti gli altri enti interessati per garantire una messa in sicurezza del territorio per migliorare la mitigazione del rischio e per dare delle risposte che erano attese da decenni dalla Valle del Misa, dalla Valle del Nevole ma anche all'introterra pesarese Penso tutta la zona e il Comprensorio del Catria che due anni fa sono state particolarmente colpite in quel pomeriggio del 15 settembre, dardo pomeriggio del 15 settembre C'è stata la proroga dello stato di emergenza a settembre del 2025 altri 12 mesi importanti per continuare in quest'azione e soprattutto siamo in procinto di mettere in campo tutta una serie di opere che sono state progettate per arrivare alla mitigazione del rischio Gli ambiti di intervento hanno riguardato la sommorgenza, i ristori per imprese private e il piano delle opere strutturali del Commissario Per la sommorgenza sono stati approvati dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile 1.470 interventi per 135 milioni di euro con 53 milioni già liquidati in attesa della completa rendicontazione da parte dei soggetti attuatori Il Genio Civile ha avviato 122 interventi di ripristino infrastrutturale e manutenzione straordinaria nei bacini dei fiumi Per le infrastrutture minori il Consorzio di Bonifica è al lavoro sulla ricostruzione di 12 ponti con tre opere già completate La novità importante è che ci stiamo dedicando a mettere a terra le opere del piano del Commissario dell'Ordinanza 1011 che sono per il momento 130 milioni di euro e che però aumenteranno Fra qualche giorno raccoglieremo 19 progetti preliminari relativi a questi interventi che possono essere fatti e le indicazioni dei progetti confluiranno nell'accordo quadro che permetterà di selezionare tutte quante le imprese a cui saranno affidati i lavori entro l'anno Il ringraziamento ovviamente non può andare che al governo che l'attuale governo che ha stanziato 400 milioni è una cifra eccezionale per un evento comunque importante come questo ma anche i 28 milioni messi in campo dalla stessa regione Marche sul fiume Misa 28 milioni posti dalla regione Marche credo che nella storia della nostra regione mai è stata individuata una cifra di questo genere ma neanche se mettiamo insieme tutti gli interventi che in 30 anni sono avvenuti quindi ecco è stato un lavoro che oggi ci può consentire di dire la certezza della sicurezza di fronte a eventi come questi non ci può essere mai poi quello del 15 settembre del 2022 è stato talmente eccezionale che credo, spero e voglio immaginare non succederà per altri mille anni però per quelle che sono le attività di piena e di disagio avvenute su quei territori più volte anche in maniera molto grave come nel 2014 ecco io credo che noi abbiamo fatto quanto è necessario per far stare tranquille le popolazioni di quei territori Restando in tema idrico nella provincia di Pesaro e Urbino dalla prossima settimana partiranno i primi cantieri di ammodernamento della rete grazie ai 27 milioni di euro ottenuti con fondi PNRR Dopo il maxi finanziamento di 20 milioni di euro di fondi PNRR ottenuto e annunciato lo scorso maggio Marche Multiservizi mette a terra il suo piano di riqualificazione e ammodernamento della rete acquedottistica Dai progetti si passa infatti ai cantieri relativi al potenziamento di 50 km di condotte della provincia per un investimento complessivo di 27 milioni e mezzo di euro 3 i cantieri al via della prossima settimana uno a Lunano, uno a San Lorenzo in campo, uno a Pesaro in via Ponchielli La settimana seguente poi partirà anche un cantiere a Soria grazie al quale verranno realizzate, oltre ad una nuova rete idrica anche nuove condotte del gas in via Agostini e via Donzelli un intervento che coinvolgerà stralci e diverse vie del quartiere e si concluderà in primavera Complessivamente con questi primi interventi verranno realizzati 8,5 km di nuova rete idrica e un chilometro di nuova rete gas per un investimento di 3,5 milioni di euro Per Marche Multiservizi i fondi PNRR rappresentano dunque un'occasione unica di ammodernamento della rete anche in chiave ambientale I cantieri però dovranno correre visto che le scadenze imposte dal PNRR sono quelle di una conclusione lavori entro il 31 marzo 2026 E ammodernare e potenziare la rete idrica significa anche evitare periti e rischi di mancanza d'acqua in periodo di siccità In tal senso il Comitato Provinciale di Protezione Civile ha deciso che da ora il prelievo di acqua dal Pozzo del Burano sarà ridotto passando da una portata di 240 litri al secondo a 150 Le ultime precipitazioni, comprese quelle odierne, consentono infatti di ridurre i prelievi cominciati in inizio agosto e auspicare di interromperli del tutto nelle prossime settimane Ci occupiamo ora della città di Fano dove ieri si è registrato un caso di contagio da febbre tropicale dengue verificatosi nella zona di Centinerola e che ha portato nella notte ad una disinfestazione insetticida del quartiere disposta dal Comune Oggi però si sono registrati altri 7 probabili casi in altre zone della città come quella del Vallato e di Viale Buozzi Un contesto che ha spinto l'amministrazione a emanare una nuova ordinanza che dispone tre nuove disinfestazioni nelle notti di giovedì, venerdì e sabato dalle 23 alle 5.30 Le disinfestazioni saranno mirate al contenimento della Zanzara Tigre nell'area urbana Valle della 14 compresa tra Centinarola e nord del fiume Metauro fino a Gimarra L'intervento richiesto dall'AST Pesaro Urbino ha come obiettivo la prevenzione di ulteriori contagi e malattie trasmesse dalle zanzare invasive Restiamo a Fano perché la polizia ha arrestato ieri due spacciatori albanesi di 20 e 25 anni arrivati in Italia da appena due mesi Uno di loro è stato fermato in auto e una volta perquisito sono emerse due dosi pronte ad essere commercializzate A fare la differenza sull'arresto è stato però scoprire dove alloggiassero i due, ovvero in un bed and breakfast di Cucurano Una volta arrivati gli agenti, l'altro ragazzo ha infatti gettato la droga nel vater e ha tirato lo sciacquone Agenti che però hanno rovistato nella fossa settica recuperando ben 16 dosi di cocaina già confezionata Nella stanza sono stati rinvenuti anche 6.700 euro in contanti considerati proventi di spaccio Oggi c'è stata la convalida dell'arresto e per il ventenne è scattato il divieto di dimora nella provincia mentre il 25enne verrà espulso E invece un negozio di macelleria di San Costanzo è stato derubato del suo fondocassa di circa 600 euro Nella circostanza i ladri hanno approfittato del fatto che al piano superiore alla macelleria non ci vivesse nessuno e così hanno forzato il portone e grazie ad un'altra porta interna hanno avuto accesso al negozio sottostante di fatto sbaliggiandolo Indagano i carabinieri sull'accaduto E lasciamo la cronaca e torniamo su Pesaro dove dopo le sollecitazioni del direttore dell'azienda sanitaria territoriale Alberto Carelli il comune conferma la disponibilità a trasferire la cittadella della salute mentale dall'ospedale di Muraglia a casa di Roverella di Santa Colomba che era una delle quattro proposte che il sindaco Biancani aveva avanzato all'ast Dopo il sopralluogo dell'assessore Luca Pandolfi alla presenza dei tecnici dell'Aste del Comune e del Consorzio Santa Colomba si è dato dunque l'ok al trasferimento dei 27 posti della RSA Tomasello Il prossimo 29 di settembre si voterà il rinnovo del Consiglio Provinciale di Pesaro e Urbino Vediamo quali sono le liste candidate Il prossimo 29 settembre la provincia di Pesaro e Urbino eleggerà il Consiglio Provinciale che resterà in carica per i prossimi due anni Nell'occasione non si voterà il nuovo presidente con Giuseppe Paolini già rieletto a dicembre 2022 e che resterà in carica fino al 2025 L'elezione però è significativa per più ragioni In primi si sono due liste in corso ed entrambe puntano a cancellare il declassamento subito dall'ente E poi sarà un nuovo test sulla bilancia fra centrosinistra e centrodestra nel territorio Paolini, esponente di centrosinistra, potrebbe anche trovarsi un Consiglio di segno opposto che non potrà comunque sfiduciarlo Saranno 651 gli elettori chiamati al voto e a scegliere i 12 componenti dell'assise come previsto dalla legge di riforma delle province saranno i sindaci e i consiglieri comunali del territorio provinciale Il voto sarà ponderato cioè proporzionale al numero di cittadini che il sindaco e il consigliere comunale rappresenta nel suo comune d'appartenenza Da un lato c'è la lista di centrosinistra denominata la Casa dei Comuni La compongono sindaci quali Simona Guidarelli di Pergola, Palmi Rucchielli di Vallefoglia, Omar Lavanna di Mercatino Conca E poi i vice sindaco di Gabiccio e Mercatello, Matteo Sanchioni e Gabriele Giovannini L'assessora di Fossombrone Laura Giombini Mentre fra i consiglieri comunali c'è Anna Maria Mattioli di Pesaro, Alessandro Valtroni di Fratterosa, Sara Cucchierini di Fano, Alison Micheli di Petriano, Oriano Giovanelli di Urbino e Anteo Bonaccorsi di Mondolfo La nuova provincia.pu è invece il nome della lista orientata al centrodestra che candida come sindaci Alberto Alessandri di Cagli, Maurizio Gambini di Urbino, Luca Serfilippi di Fano, Domenico Carbone di San Costanzo, Nicolo Pierini di Pian di Meleto, Enrico Rossi di Cartoceto E poi i vice sindaco di Frontino Lidia Lazzarini e di Acqualagna Alessandra Serafini, i consiglieri comunali Carla Biccari di Urbino, Daniele Malandrino di Pesaro, Fernanda Sacchi di Mercatello sul Metauro e Sabina Stortiero di Terre Roveresche Attraverso un comunicato stampa i consiglieri comunali peseresi del Partito Democratico, Marco Perugini, Stefano Cioppi e Francesca Tomassoli sottolineano come ieri si sia riunita la commissione enti partecipati ascoltando l'assessore Daniele Vimini, il dirigente comunale Gianni Galdenzi e il direttore della Fondazione Pescheria Silvano Straccini L'incontro ha avuto come scopo l'audizione dei dirigenti e del direttore per approfondire il funzionamento della fondazione Durante la seduta, secondo i consiglieri, è stata descritta in dettaglio l'evoluzione di questa istituzione cittadina negli ultimi 13 anni e il suo ruolo cruciale nella programmazione e attuazione di Pesaro, capitale della cultura La gestione della fondazione è stata verificata nei dettagli ed è risultata conforme alle regole previste dallo Statuto e dalle normative sulle fondazioni a partecipazione pubblica Per Perugini, l'ostruzionismo della destra non solo mina la partecipazione attiva ai grandi eventi di Pesaro 2024 ma dimostra quanto siano scollegate dalla realtà cittadina essendo assenti alle iniziative e concentrati solo su critiche pretestuose Cambio al vertice delle tribunale di Pesaro Dal prossimo ottobre si insedierà il 58enne Marco Mescolini in qualità di nuovo procuratore capo della Repubblica Già capo della procura di Reggio Emilia, Mescolini rileverà l'incarico ricoperto ad interim da Maria Letizia Fucci e in precedente da Cristina Tedeschini Alla fiera di San Nicola di Pesaro è grande festa ieri sera nell'area Spettacoli di Piazzale d'Annunzio dove l'associazione Pesaro Village ha celebrato la conclusione della sua trentesima estate di servizio di animazione e intrattenimento in città Per l'occasione sono saliti sul palco tanti degli animatori che hanno contrassegnato questi tre decenni fra divertenti gag e aneddoti Domenica 15 di settembre torna la giornata europea della cultura ebraica manifestazione che invita ad approfondire storia, cultura e tradizioni dell'ebraismo coordinato e promosso nel nostro paese dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e giunta alla 25esima edizione Pesaro aderisce alla giornata prendo al pubblico gratuitamente la sinagoga di Via delle Scuole con orario 10.13 e 16.19 in questa seconda fascia oraria si terrà anche l'incontro d'approfondimento dal titolo dalla vita di una famiglia ebrea e alle 19 il concerto Nigunim di Roberto Paci D'Alo Pesaro capitale della cultura sarà anche la sede dell'Avis Donor Weekend con tre giorni nei punti nevralgici della città dedicati alla donazione di sangue Pesaro 2024 si fa capitale italiana della cultura del dono grazie all'evento di Avis Donor Week previsto in calendario dal 13 al 15 settembre si tratta di una tre giorni di musica, spettacoli e divertimento dedicata alla cultura della donazione del sangue e a quella della cura delle persone dall'omaggio a Rossini allo show di Giovanni Cacioppo passando per convegni, pedalate e concerti Ringraziamo Avis Nazionale che ha ideato questo format nelle capitali della cultura quindi sarà una tre giorni Donor Weekend 2024 piena di eventi, di convegni con formazione e informazione di spettacoli e di cultura l'intento è quello di promuovere la donazione di sangue saranno affrontati diversi temi tra cui il sociale e il digitale i giovani nel mondo del volontariato e appunto la cultura della donazione e la sua promozione saranno eventi aperti a tutti quindi a ingresso libero e gratuito ci saranno spettacoli, concerti, spettacolo comico si aprirà venerdì 13 settembre con un'inaugurazione con un omaggio a Giochini Rossini il nostro celebre compositore con pianoforte e voci liriche se il tempo lo permetterà in Piazza del Popolo quindi alle 18.30 e seguiranno altri spettacoli tra cui sabato sera alle 21 il spettacolo comico di Giovanni Cacioppo sempre in piazza alle 21, sempre a ingresso libero e per finire domenica sera con una pedalata nella famosa bicicletta napesarese che poi costeggerà anche il litorale per ritornare in Piazza del Popolo con questa pedalata dedicata al nostro Franco Revelli segretario di Avis Pesaro mancato l'anno scorso proprio il 15 di settembre giorno in cui faremo questo memorial in questi eventi noi saremo presenti con i nostri banchetti quindi daremo informazione sulla donazione e i donatori pesaresi e i cittadini pesaresi potranno anche prenotare la visita di donità per diventare donatori informeremo di quanto sia importante la donazione di sangue e quanto sia importante diventare donatori perché con un semplice gesto si possono salvare delle vite, delle vite umane già si parla di aggancio con Agrigento che sarà la prossima città della cultura quindi ormai credo che sia un evento partito ed è ovviamente molto importante perché ci permette di fare promozione a un livello eccezionale in tutta Italia ogni anno a questo punto lo dicevo prima, è la prima volta che ci ritroviamo tutte le Avis insieme anche se ovviamente dobbiamo dire che noi siamo un Avis punto e basta è solo un'organizzazione a livelli differenziati comunque per le Marche ovviamente in questo caso per le Marche, per la provincia, per la città di Pesaro è un grande evento è una grande possibilità di diffondere il messaggio del dono è un altro giorno molto importante di approfondimenti come avete detto ma anche diciamo di festa perché è una festa per la comunità pesarese è una festa per i cittadini è una festa per Avis è un momento in cui si parla di questi temi si parla anche alla cittadinanza perché il nostro obiettivo è quello di arrivare a più cittadini possibile per accrescere il già numerosissimo numero di volontari che fanno questo gesto bellissimo che è quello del dono di sangue e di plasma Si sta chiudendo l'estate ma nella città di Pergola con la collaborazione di ConfCommercio si apre una stagione di grandi appuntamenti che partirà dal periodo autunnale è una programmazione che riteniamo fondamentale proprio perché uno dei punti chiave della nostra amministrazione sarà lo sviluppo turistico della città e quindi è fondamentale riuscire a programmare il futuro per ottenere i risultati migliori possibili anche perché come dicevamo in precedenza l'obiettivo è quello di accrescere sempre di più i nostri grandi eventi come la Fiera Nazionale del Tartufo ad esempio che nel decennio 2009-2019 è riuscita ad ottenere il titolo di nazionale mentre adesso ci riproponiamo di puntare al titolo di internazionale ci vorrà del tempo ma è proprio con la programmazione che si arriverà ad ottenere gli obiettivi A Pergola tornano i grandi eventi vogliamo promuovere questi grandi eventi con un claim quello delle tre S sapori autentici, storia millenaria e sensazioni indimenticabili i sapori autentici sono quelli del nostro tartufo bianco pregiato di Pergola del nostro visciolato che viene trasformato in maniera artigianale con maestria in un vino dolce il visciolato che è noto per le sue proprietà organolettiche e anche qualcuno dice per le sue proprietà afrodisiache poi abbiamo la storia millenaria che è quella dei nostri bronzi dorati di Pergola i quintali di oro e di bronzo fusi oltre duemila anni fa per dare vita ad un gruppo bronzio unico al mondo e poi abbiamo le sensazioni indimenticabili quelli che offrono i nostri borghi le nostre città i nostri panorami straordinari e concludiamo il nostro telegiornale con lo sport e lo facciamo questa sera andando a conoscere due dei nuovi giocatori della VL 2024-2025 Dopo la passerella collettiva di martedì sera in Piazza del Popolo la VL continua ad approfondire la conoscenza del suo nutrito gruppo italiano al timone della prossima Serie A2 questa mattina presso il ristorante La Vela il 31enne torinese Eric Lombardi reduce dall'esperienza Brindisi e il 26enne toscano ex Cantu Lorenzo Bucarelli hanno esternato impressioni e sensazioni di quello che è stato finora il lavoro affrontato in precampionato e di quale stagione attenderà il basket bianco-rosso Ho scelto di venire qua perché ho spostato il progetto ho spostato anche il fatto di trovare un mio ex allenatore che è Pino Sacripanti con cui ho già vinto un campionato che è stato quello di Napoli e anche europeo quando ero più piccolino quindi ero anche perché la piazza è una piazza storica che l'anno scorso noi ci siamo incrociati abbiamo fatto tutti e due la stessa fine però merita comunque di trovare la massima serie Sicuramente sarà una stagione lunghissima quindi fare pronostici anche difficili avendo esperienze degli anni passati che non sempre la squadra ha pronosticato a vincere poi vince il campionato quindi dovremo affrontare partita per partita concentrarsi su mini obiettivi a breve e medio termine per poi costruire qualcosa di importante giorno per giorno Il campionato è lungo, è difficile e sicuramente ci impegnerà nel primo mese tantissime partite quindi ci devi lavorare tanto, molto soprattutto di spronare anche i ragazzi più giovani così a lavorare, lavorare e a fare una mentalità vincente Secondo me il fattore chiave è non farsi troppo trasportare dai momenti sia in positivo che in negativo che ci saranno durante l'anno perché alla fine vince chi riesce a tenere la barra dritta sia nei momenti quando le cose vanno tutto bene e quindi non farsi trasportare troppo dall'entusiasmo e dall'euforia e sia quando ci saranno momenti brutti di qualche sconfitta così non farsi tirar giù nel vortice della negatività quindi tenere sempre un atteggiamento positivo e lavorare per far sì che duri il più e lungo possibile Parole d'ordine, impegno, equilibrio ma anche compattezza fra squadra e città Sono belli carichi, questa cosa mi piace perché questa carica, questa energia sarà per noi molto utile sia al palazzetto che anche fuori è il nostro stesso uomo quindi rimaniamo così tutti quanti con questa carica energia E termina qui il nostro telegiornale Rossini News Prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata dedicata a due appuntamenti di approfondimento coordinati da Confcommercio Marche Nord Alle 21.20 andremo a scoprire il forum di impresa cultura Italia dal titolo Turismo e impresa culturale A seguire alle 21.40 il potere della parola un convegno dedicato a comunicazione e informazione e le differenze e le influenze che portano sulla società di oggi Poi naturalmente vi ricordo l'appuntamento con l'informazione di Buongiorno Rossini vi aspetto domattina in diretta alle 7.20 con la rassegna stampa dei quotidiani locali Ed è invece tutto per questa edizione di Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi Grazie! Grazie!